Cristiano Malgioglio è originario di Ramacca, un paese in provincia di Catania. Dopo aver vissuto in Australia con la famiglia dal 1946 al 1955, torna a Ramacca, dove si diploma ragioniere. Negli anni 60 lascia la Sicilia per trasferirsi a Genova, dove vive la sorella, e inizia a lavorare alle poste, occupandosi dello smistamento della corrispondenza presso l'ufficio di Camogli. Durante il suo soggiorno in Liguria, entra in contatto con alcuni cantautori della scuola genovese, tra cui Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè. Quest'ultimo lo porta a Milano, dove gli organizza un colloquio presso una prestigiosa casa discografica. Malgioglio racconterà successivamente a Raffaella Carrà durante una puntata di Pronto Raffaella, che, per ricambiare il favore a Fabrizio, pochi anni dopo gli presentò Dori Ghezzi, una grande amica e una delle prime interpreti delle sue canzoni. Cristiano Malgioglio esordisce come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Moretti, che la inserisce nel suo album Conto Terzi. Nei primi anni Settanta entra a far parte del quarto sistema, 1973-1974, un gruppo che include anche la cantante statunitense Roxy Robinson e i fratelli Alberto e Gianni Tirelli, e che incide per la Durium. Dopo lo scioglimento del gruppo, nasce il nuovo sistema, 1975-1977, formato da Malgioglio, Roxy Robinson e Italo Ianne, e attivo con l'etichetta Rifi. Come autore, Malgioglio vince il Festival di Sanremo nel 1974, con il brano Ciao cara come stai, interpretato da Iva Zanicchi, con cui collabora anche per la canzone Testar da io, scritta per Roberto Carlos. Inoltre, nel 1974, il regista Lucchino Visconti include Testar da io nel film Gruppo di famiglia in un interno. Successivamente, Malgioglio si trasferisce in Brasile per lavorare con Roberto Carlos. Tra il 1975 e il 1980, Malgioglio collabora con la cantautrice Juni Russo, scrivendo per lei alcuni brani come Intrappola, Mai, che diventa sigla del Cantagiro nel 1977, e Soli Noi, che riscuote successo anche in Francia e Portogallo. Collabora inoltre con la musicista Maria Antonietta Sisini e scrive per altre voci femminili, tra cui Amanda Lear, per la quale compone il brano Ho fatto l'amore con me nel 1980. Nel 1979, Juni Russo firma anche la musica di Io A, per Cristiano Malgioglio, brano incluso nell'album Sbucciami, 1979, dove appare tra i cori con acuti straordinari. Tuttavia, le canzoni che gli conferiscono maggiore notorietà come autore sono L'importante è finire e, ancora ancora ancora, 1978, diventate evergreen del repertorio di Mina. Negli anni 70, Malgioglio inizia a esibirsi anche come interprete. Uno dei suoi primi successi commerciali è Nel tuo corpo, 1976, una cover di una canzone di Roberto Carlos. Inizialmente destinata al cantautore brasiliano, la canzone viene interpretata da Malgioglio su richiesta dello stesso Carlos, dopo aver ascoltato il provino. Seguono i suoi primi album, Scandalo, 1976, Maledizione e io l'amo, 1977, e Sbucciami, 1979, quest'ultimo con la canzone omonima, che, pubblicata come singolo 45 giri, entra in hit parade e diventa un brano cult grazie ai suoi allusioni e doppi sensi. Malgioglio interpreta anche altri brani celebri come L'amore mi morde mi vuole, Ernesto, quasi autobiografico, e Clown, per quest'ultimo realizzando un videoclip diretto da Luciano Salce. Nel 1984, Cristiano Malgioglio partecipa per la seconda volta come autore al Festival di Sanremo, con il brano Chi mi darà, interpretato da Iva Zanicchi e scritto insieme a Umberto Balsamo. La canzone si classifica al nono posto con 221.908 voti. Alla fine degli anni Ottanta, Malgioglio ottiene un discreto successo commerciale con Toglimi il respiro, tratta dall'album Casanova, 1987. Questa canzone è la versione in italiano di Take My Breath Away, scritta da Giorgio Moroder, Tom Whitlock e Giorgio Rea, per la colonna sonora del film Top Gun, e interpretata nella versione originale dai Berlin. Negli anni Ottanta, Malgioglio pubblica anche gli album Artigli, 1981, Bellissime, 1983, dove interpreta famosi brani che aveva scritto per artisti come Mina, Iva Zanicchi e Roberto Carlos, Café Chantin, 1986, Casanova, 1987, e Delitto e Castigo, 1989. Quest'ultimo, considerato il più completo musicalmente, è utilizzato per chiudere il decennio. Nel 1982 realizza Manette Blue, adattamento in italiano della canzone di Janik Prevot, Je veux de la tendresse, composta da Jean-Paul Drot, e adattata anche in inglese da Elton John con il titolo Nobody Wins. Il brano è inciso dalle cantanti Una e Marta Lamy, ma Eva, su 45 giri nel 1982. Spesso viene erroneamente attribuito a Pamela Prati, che non l'ha mai interpretato, ma si è solo esibita con la versione di Una nella sigla del programma Rai di Scomare. Nel 1990, Malgioglio torna come autore al Festival di Sanremo con il brano Vorrei, scritto insieme a Patrizia Vernola e interpretato da Mino Reitano. Quest'anno ai cantanti italiani vengono affiancati cantanti stranieri, come era consuetudine negli anni Sessanta. Mino Reitano è accompagnato dalla cantante e attrice argentina Valeria Lynch, che propone il brano in versione spagnola col titolo Quisieras, sempre su testo di Malgioglio. All'inizio degli anni 90, Cristiano Malgioglio pubblica l'album di Duetti Amiche, 1991, dedicato a Roberto Carlos. L'album presenta collaborazioni con cantanti come Milva, Iva Zanicchi, Silvi Vartan, Lara St. Paul, Aida Cooper, Rita Pavone, Rosanna Fratello e Mersia. Nel 1992, Malgioglio realizza un duetto con Mario Merola nel brano Futte Tenne, scritto da Roberto Carlos, con il testo in italiano di Malgioglio, e incluso nell'album Futte Tenne, 1992. Questo album contiene anche il singolo I ragazzi napoletani, cantato con il tenore Pietro Ballo, e il brano ironico Caro Berlusconi, scritto insieme a Corrado Castellari. Nel 1993, produce la compilation di Eurodance Sentimental Dance, dove interpreta, sotto lo pseudonimo di MC & Co., tre grandi successi internazionali, Je t'aime, Moinon Plus, What is Love e The Days of Pearly Spencer. E ne Spagna? Escuciando a Isabel Pantoia, è il suo unico disco live, registrato durante un concerto a Siviglia nel 1994. Questo è seguito dal disco di Inediti Carpe Diem, 1995, che include la cover del brano Karma Coma dei Massive Attack, tradotto in italiano come Carpe Diem. Durante questo periodo, molti dei suoi album sono tradotti e distribuiti sul mercato spagnolo. Delitto e Castigo, 1989, diventa Lolita, mentre Futetenne e Carpe Diem escono rispettivamente come Los Chicos de Andalucía e Mira el Puerto, ottenendo buoni riscontri di vendita. Viene inoltre lanciata sul mercato sudamericano la raccolta en privado. Nel 1996, Cristiano Malgioglio realizza l'album Tributo Signor Battisti, dedicato a Lucio Battisti, nel quale interpreta alcuni brani in lingua spagnola della coppia Battisti-Mogol. Per questo progetto, Malgioglio coinvolge l'amica Maria Schneider, anche produttrice dell'album e celebre attrice francese, nota per il suo ruolo in ultimo tango a Parigi. Insieme interpretano il brano Ancora tu. L'album ottiene un discreto successo in quasi tutta l'America latina. Nel 1997, Maria Schneider produce anche il nuovo lavoro di Malgioglio Matri, anticipato dal singolo Illuminami. L'album contiene il brano in siciliano Matri, scritto con l'autore Enzo Petronciana e dedicato ad Anna Magnani, come indicato nel booklet del CD. Nel 1999, Malgioglio è direttore delle musiche della trasmissione di Rai 1, La casa dei sogni. Con l'album Ho dimenticato di baciare la sposa, 1999, inizia una nuova fase di sperimentazione musicale dedicata alla ricerca di suoni e folklore latino-americano. Questa esplorazione continua nei decenni successivi, abbracciando stili come samba, cia-cia-cia, rumba, paso-doble e giv attraverso album molto apprezzati in Sud America e Spagna, tra cui La Esperanza 2002, Boleros 2006, Papaya 2008, Signora Evora 2012, Habana Andata e Ritorno 2012 e Soños 2017. Molti di questi dischi sono cantati interamente in spagnolo e portoghese. Durante questo periodo, Malgioglio trova un suo rifugio nell'isola di Cuba, dove incontra i principali cantanti locali e sviluppa una profonda connessione con la cultura cubana. Nel 2002, il regista Juan Carlos Tabio lo dirige nel video Che bellezza! Sempre a Cuba, Malgioglio gira due speciali per Rai 1 dedicati alla musica cubana, Alma de Cuba e Cuba a Madamia. Incide inoltre duetti con Pablo Milanés come Quando sono assente da te e con Pablito come Ansietà. In questo periodo, diventa un artista molto apprezzato sull'isola, con le sue canzoni trasmesse frequentemente dalle principali stazioni radio cubane come Radio Progreso, Radio Rebelde e Radio Taino. Intorno al 2000, Cristiano Malgioglio guadagna una notevole popolarità televisiva in Italia come Spalla di Massimo Giletti nel programma Casa Rai 1. Successivamente, Carlo Conti lo coinvolge come opinionista cattivo nel programma I raccomandati. In questo periodo, Malgioglio intervista per la Rai alcuni dei cantanti più famosi, tra cui Cher. Tra gli album pubblicati dopo il 2000 figurano La e Speranza 2002, La mia storia, in privato 2004, Le donne non capiscono gli uomini 2005, Quando tu non mi vedi 2007, Je m'adore 2009 e Cara Mina ti scrivo 2010, in cui interpreta tutte le canzoni che ha da scritto per Mina nel corso degli anni da L'importante è finire fino a Carne viva. Nel 2007 esce la raccolta digitale L'isola che non c'è Nel 2009 Malgioglio partecipa come giurato al programma CIAC Si canta condotto da Eleonora Daniele su Rai 1 e vi ritorna nel 2010 insieme a Giletti Lamberto Sposini Fabrizio Frizzi e Michele Cucuzza Nel 2008 durante una puntata del programma Quelli che il calcio Pupo rivela che Malgioglio è l'autore del testo del brano Gelato al cioccolato interpretato da Pupo anche se Malgioglio pur avendo scritto canzoni per artisti come Mina non volle essere accreditato infatti sui supporti fisici compare solo il nome di Enzo Ghinazzi e Clara Miozzi ma alla CIA Malgioglio risulta accreditato insieme a Ghinazzi e Miozzi sempre nel 2008 Simona Ventura lo chiama per Quelli che il calcio e successivamente per selezionare i giovani concorrenti per X Factor dove scopre e supporta Giussi Ferreri nel 2009 Malgioglio tornano a scrivere per Mina due brani Vida loca e Carneviva entrambi inclusi nell'album Facile uscito lo stesso anno Carneviva diventa anche la colonna sonora del film Baciato dalla fortuna nel 2009 Cristiano Malgioglio partecipa alla settima edizione del reality L'Isola dei Famosi condotto da Simona Ventura su Rai 2 ottenendo un grande successo tuttavia viene eliminato durante la quarta puntata con il 51% dei voti nel 2010 appare come opinionista nel programma televisivo X Factor il 31 gennaio 2012 esce il nuovo album di Marcella Bella Femmina Bella che si basa sui ritmi cubani Cristiano Malgioglio partecipa al progetto come produttore e autore principale scrivendo anche il primo singolo estratto Malecon lo stesso giorno Malgioglio ritorna come concorrente nella nona stagione di L'Isola dei Famosi condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria tuttavia il 13 febbraio decide di ritirarsi a causa di un insulto omofobo ricevuto qualche settimana prima da Mariano Apicella ad ottobre 2012 Malgioglio è scelto dal regista Massimiliano Bruno per un cameo nel film Viva l'Italia nello stesso periodo fonda la sua etichetta discografica Malgioglio Records e produce l'album Signora Evora dedicato alla cantante Cesaria Evora l'album include il brano Tiempo e Silenzio cantato in duetto con Maria Nazionale e altri omaggi a Evora in creolo capoverdiano e italiano questo progetto è autorizzato dalla casa editrice parigina Lusafrica grazie anche alla collaborazione di Malgioglio con Alberto Zeppieri produttore della collana Capoverde Terra d'Amore e adattatore di fiducia di Cesaria per l'Italia nel 2013 Cristiano Malgioglio partecipa al corto l'ospite perfetto Room 4 prodotto dal gruppo musicale Zero Assoluto e con Federico Moccia e la Weber e altri nello stesso anno è parte del cast fisso del varietà televisivo di Rai 1 riusciranno i nostri eroi condotto da Max Giusti e realizza per Rai due due speciali dedicati alla musica latina continua anche la sua attività di autore nel disco di Raffaella Carrà Replay scrive il brano Il Lupo che era stato originariamente scritto per Mina inoltre scrive il brano Pioggia di Speranza per il giovane cantante Cristian Imparato vincitore della prima edizione di Iocanto condotta da Gerry Scotti su Canale 5 Pioggia di Speranza viene inserita anche nella compilation Capo Verde Terra d'Amore Vol. 4 distribuita dall'etichetta Incipit Record nel 2014 firma il brano Dimmi Dammi Dimmi per Viola Valentino ad ottobre dello stesso anno esce il suo nuovo album La Bellezza su etichetta Edel Music anticipato dal singolo Grasso che cola dedicato al critico Aldo Grasso Con questo album Malgioglio festeggia i suoi 40 anni di carriera Nello stesso anno Malgioglio è coinvolto nel ruolo di direttore nel programma TV Grand Hotel Chiambretti condotto da Piero Chiambretti su Canale 5 Dal 24 settembre al 10 dicembre 2015 è ospite e opinionista nel reality show Grande Fratello 14 condotto da Alessia Marcuzzi insieme con Claudio Amendola A novembre dello stesso anno pubblica Iconic 50's un doppio album in cui reinterpreta famose canzoni degli anni 50 distribuito da Music First Dal 15 marzo 2016 partecipa alla seconda edizione del Grand Hotel Chiambretti A settembre 2017 Cristiano Malgioglio pubblica un nuovo album intitolato Sognos completamente interpretato in lingua portoghese L'album include 11 cover di grandi artisti dell'America Latina come Penigna Alcione Marisa Monte e Agepe E anticipato dal singolo estivo O Maior Golpe do Mundo Mi sono innamorato di tuo marito uscito il 23 giugno 2017 e accompagnato da un videoclip ispirato al calciatore Mauro Icardi L'11 settembre 2017 Malgioglio partecipa alla seconda edizione del reality Grande Fratello VIP dove diventa uno dei protagonisti del programma e ritrova una notevole popolarità Viene eliminato in semifinale dopo una nomination con Ivana Mrazova Grazie al programma il singolo O Maior Golpe do Mundo Mi sono innamorato di tuo marito ottiene un discreto successo raggiungendo la top 50 dei singoli più scaricati su iTunes e il videoclip supera 20 milioni di visualizzazioni su YouTube Dal gennaio 2018 è presente ogni martedì mattina nel programma radiofonico La Famiglia su RTL 102.5 L'11 marzo 2018 partecipa all'edizione speciale di Guess My Age indovina l'età con Valeria Marini condotto da Enrico Papi su TV8 Dal 2018 al 2019 torna come opinionista al Grande Fratello inizialmente con Simona Izzo e poi con Iva Zanicchi nel 2019 il 1 giugno 2018 pubblica il nuovo singolo Danzando Danzando in collaborazione con Fernando Proce che diventa un tormentone estivo e viene presentato in manifestazioni canore come Battiti Live 2018 a settembre su richiesta di Caterina Caselli compone un brano per Arisa intitolato Amarsi in Due mentre un altro pezzo viene rifiutato da Mina nel 2019 Cristiano Malgioglio è presente nel cast del programma CR4 La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti su Rete 4 e torna come opinionista al Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso il 30 novembre 2018 pubblica il nuovo album Danzando che include la hit Danzando Danzando la cover di Se Tu Non Torni di Miguel Bosé e brani inediti a febbraio 2019 esce l'album Una Nuova Rosalba in città di Arisa che contiene Amarsi in Due tradotto da Malgioglio questo brano è la versione italiana di Amar Pellos Dua di Luisa Sobral vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 lo stesso anno pubblica il remix di Dolce Amaro un singolo degli anni 80 di Barbara D'Urso il 25 novembre 2019 esce il singolo Notte Perfetta in featuring con The Jack accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli in cui Malgioglio interpreta Malena come Monica Bellucci nel film di Giuseppe Tornatore nel gennaio 2020 compone per Iva Zanicchi il brano Sangue Nero una cover di Canção D'Omar di Amalia Rodriguez in occasione del suo ottantesimo compleanno inoltre scrive il nuovo singolo Raccogli l'attimo per Albano e Romina Power che viene presentato al Festival di Sanremo 2020 Malgioglio è presente alla serata del 4 febbraio come ospite d'onore a novembre 2020 partecipa nuovamente come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip venendo eliminato il 18 dicembre 2020 nel 2021 Cristiano Malgioglio pubblica il singolo Todo Cambia una cover del brano di Mercedes Sosa in duetto con Orietta Berti il singolo è accompagnato da un videoclip e anticipa l'uscita del suo nuovo album successivamente il 23 giugno 2021 esce il singolo estivo Tutti Memiran in collaborazione con il rapper Ivri una cover del brano Todos Memiran di Gloria Trevi dal settembre 2021 Malgioglio diventa giudice di tale e quale show il 20 maggio 2022 esce il suo album Malo che include Forte 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 un tributo a Raffaella Carrà e Malo una cover del brano di Bebe l'album contiene anche duetti con Orietta Berti Iva Zanicchi Omara Portuondo e gli Orishas e si concentra su celebri cover di artisti come Bebe Gloria Trevi e Mercedes Sosa il progetto è dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne il 24 giugno 2022 Malgioglio pubblica il singolo estivo Suku Suku una cover della canzone omonima di Tarategno Rojas portata al successo da Eddie Helder detto Ping Ping a settembre 2022 riceve il premio Lunezzi Autore e Interprete ad Aula per il valore musical letterario del brano L'importante è finire noto per l'interpretazione di Mina nel dicembre 2022 conduce Mi casa e tu casa su Rai 2 un programma che riprende il format di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà dove ospita personaggi famosi e dialoga con loro in modo colloquiale nel 2023 Malgioglio è giudice nella fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi il 1 settembre 2023 esce il singolo Vita Porno scritto e interpretato insieme con Bungaro accompagnato da un videoclip diretto dallo stesso Malgioglio il 24 maggio 2024 pubblica il singolo estivo Fernando dedicato a Cristiano Ronaldo presentato in anteprima nella serata finale di Amici di Maria De Filippi di Amici di Maria De Filippi di Amici di Maria De Filippi